Pietro Miraldi, consigliere comunale di Vallo della Lucania, ha protocollato questa mattina la proposta di convocazione di un consiglio comunale straordinario con all'ordine del giorno la chiusura della strada cilentana nel tratto pregnano Agropoli. Per raggiungere il nostro territorio e l'intero Cilento, dice Miraldi, ci sono innumerevoli difficoltà. Non possiamo perdere più tempo, ci vuole un segnale forte e credo che la convocazione di un consiglio comunale, magari allargato agli altri sindaci del Cilento, può essere un inizio. I cittadini vogliono delle risposte concrete dalla provincia e dalla regione. Sono sconfortato, aggiunge Angelo Coda, presidente dell'Unione delle associazioni turistiche del Cilento e Vallo di Diano, la chiusura della cilentana è un danno immenso per il turismo del territorio. Secondo un primissimo bilancio fatto dall'Unione, il 50% delle prenotazioni estive andranno disattese. Questa volta, spiega Coda, rischiamo davvero di farci del male. Chi già è stato nel Cilento lo scorso anno e ha dovuto subire le innumerevoli code al ritorno dalle vacanze, è difficile che possa ritornare, sapendo che l'arteria a scorrimento veloce è chiusa del tutto. Un danno gravissimo a un'economia che già di per sé è contrassegnata dalla negatività. I centri turistici più a rischio potrebbero essere quelli di Ascea, Casalvelina, Ceroli, Piopi, Pisciotta, mentre un po' di respiro ci potrebbe essere, rivela Coda, per Camerota, Sapri e Palinuro, poiché se vanno in porto i lavori sulla Mingardina si può sfruttare l'uscita autostradale a buon abitacolo per raggiungere quelle località. Ma i danni non si registrano solo nel prossimo futuro. Già in questo periodo di bassa stagione che noi cerchiamo di vendere alle scolarische, dice Coda, andremo a ricevere numerose disdette poiché nessuno si azzarda a portare un bus da 50 posti attraverso la strada provinciale 45 che è già disagiata di sua. La Cilentana è stata chiusa da qualche ora ma l'economia locale è andata già in sofferenza.